Sì, è tenuta stamattina presso la sede dell'Opionica un evento di solidarietà, una manifestazione che ha unito il mangiare sano con la prevenzione dei tumori. L'evento è stato organizzato dall'azienda Opionica assieme alla delegazione di La Terza Ant, una bella realtà che offre assistenza gratuita ai malati di tumore. Durante la mattinata è stato inaugurato anche il punto vendita aziendale di prodotti biologici. Ionica Bio è un'organizzazione nata nel 2005 con l'obiettivo di produrre alimenti sani, sicuri ed ottenuti nel massimo rispetto dell'ambiente, secondo il disciplinare del regolamento comunitario. Perché in fin dei conti la prevenzione inizia dalla tavola e mangiare bio significa prevenire. Un'azienda come la nostra che è abituata ormai da dieci anni a lavorare per l'estero, se si trova in un settore che in Italia sta crescendo negli ultimi due anni in doppia cifra, è chiaro che si deve porre anche il problema di qualche iniziativa da fare per il proprio territorio. Quindi diciamo che in questo momento noi abbiamo voluto fare un tipo di semina, il cui raccolto non sappiamo quando si potrà in effetti mietere. Però sicuramente vogliamo recitare un ruolo di primo piano nella diffusione del biologico, anche in una zona a vocazione agricola come la nostra. E nello stesso tempo vogliamo far sì che si possa comprare prodotto biologico non ai prezzi che normalmente la gente è abituata a trovare, sia nella grande distribuzione che nei negozi specializzati. La salute è incominciata dalla tavola? Prevenire a meglio procurare? Beh, penso di sì. Da questo punto di vista noi con le scuole vogliamo iniziare un percorso formativo che faccia sì che dalle primissime fasi di età i ragazzi, i bambini, comincino a capire che è uno stile di vita diverso quello che porta ad avere risultati per il futuro. L'Ant verso l'Oppionica, perché? Perché ci hanno chiesto di collaborare insieme a loro e noi naturalmente abbiamo molto, ma molto volentieri accettato in quanto nutrire e prevenire sono due cose importanti. Loro ci nutriranno con i loro prodotti biologici che sono molto sani. Noi perché, a parte l'assistenza domiciliare gratuita oncologica che portiamo a casa dei malati, l'altra parte dell'Ant riguarda proprio la prevenzione. Noi facciamo visite mediche di prevenzione del melanoma, alla tiroide, alla mammella e tante altre cose. E prevenire con la giusta nutrizione è importante, visto anche come da alcuni studi che la nutrizione incide per il 30-40% nei tumori delle persone. Ecco, è importante che se riusciamo ad abbattere con il 30% l'incidenza dei tumori sarebbe già un grandissimo sogno per noi, è logico.